Una piacevole presenza anche quest'anno al Monza Red Show, Tamara Molinaro. Tamara, allora ti abbiamo lasciato con Gigi Galli, ti ritroviamo con Gigi Galli, ma con 300 cavalli in più. Sì, devo dire che è una macchina che va leggermente di più rispetto alla fiesta dello scorso anno, il divertimento è il triplo, è sempre un piacere poter essere qui con Gigi, è veramente bello. Prima di parlare della tua annata che ti abbiamo visto di qua e di là, parlaci proprio di questa esperienza con la Kia, se l'hai potuta provare, ma soprattutto come hai trovato Gigi su questo mezzo da rallycross? Allora, Gigi io l'ho trovato molto bene, vedo che ha già un ottimo feeling con la macchina e questo mi fa molto piacere, poi vederlo guidare è veramente fantastico come sempre e ogni volta che salgo mi emoziono e la cosa bella, anche solo di vederlo qui ieri, era che vedevi la fame che ha, è la cosa più bella che ci possa essere davvero. Benissimo, senti, abbiamo detto un altro anno in passato, in questo anno Tamara Molinaro come è cresciuta, non solo anagraficamente? Allora, prima ho fatto i 18 anni, quindi adesso ho la patente, è la cosa più bella e poi ho imparato un sacco di cose, sempre da tutti i punti di vista e sono molto contenta di questo, soprattutto dal punto di vista dell'allenamento fisico e delle note. Quest'anno purtroppo ho fatto un po' meno chilometri rispetto allo scorso anno, ma va bene così. Senti, come hai trovato proprio questa, tu hai avuto la potenza di farlo, questa preparazione con Red Bull, però ti sentiresti di consigliarla anche a tanti tuoi colleghi e futuri colleghi che invece la trascurra un po'? Assolutamente sì, davvero, è una delle cose più importanti in assoluto in questo sport. Perfetto, senti, l'ultima domanda è quella che tutti si aspettano, allora, quando ti vedremo fuori dagli allenamenti? Bella domanda, mi piacerebbe saperlo, purtroppo ancora non so niente, adesso in questi ultimi mesi dell'anno stiamo vedendo di progettare il prossimo anno al meglio e quindi quando saprò qualcosa vi farò sapere sicuramente. E ti seguiamo tutti con gran piacere, ciao e grazie. Grazie.